Allora, Libero, come vede questa figura di questo Presidente acclamato dalla sua gente, della gente della gioventù, dei giovani ragazzi? Intanto come lo vedo io perché devo vedere ancora la prima pagina che faremo domani, non sento al giornale. Beh, diciamo questo, dopo la giornata di ieri con l'intercettazione e la vicenda abbastanza complessa e convulsa come giornata, oggi le risposte sono state abbastanza chiare. Dà un quadro, un assetto abbastanza definito e con poche sfumature, anche se può essere un gioco di quinta, cioè sul 2013, Alfano, Presidente del Consiglio e Gianni Letta, Capo dello Stato. Quindi dà un assetto per il futuro che in qualche modo stabilizza l'assetto all'interno della PDL. Dal punto di vista delle risposte ai giovani io credo che abbia offerto degli spunti molto interessanti. Sostanzialmente dice che il governo tecnico non serve a questo Paese, la manovra che abbiamo fatto l'abbiamo fatta perché ce l'ha chiesta la BCE, quindi tutto sommato siamo su una linea di galleggiamento abbastanza accettabile. La cosa che a me ha colpito invece, che forse sarà marginale domani sui giornali, ma che è abbastanza interessante, è quando lui dice sulle pensioni la questione europea, cioè l'asino europeo. Dà un'immagine che probabilmente sarà sfumata, ma secondo me è importante perché l'assenza di una vera politica europea che sappia far ragionare tutti i Paesi allo stesso modo, che manca questo accordare i violini sostanzialmente, dovendo essere un'orchestra che è estonata in questo momento, beh, la dice lunga sul problema delle pensioni. Benissimo, allora che cosa ci sarà scritto sulle pagine di domani? Beh, devo scoprirlo. Io per quello che mi riguarda, dovendo raccontare questa giornata, beh, devo dire che racconterò sicuramente di questa investitura di Alfano e Letta, che è un po' un ribaltare la prospettiva rispetto a quello che aveva detto Alfano. Ci sarà sicuramente un Premier che è forte, che si sente solido nel suo rapporto con gli elettori, ma anche con i giovani, poc'anzi uscendo, raccogliendo la nostra provocazione, lui ha detto non mi sento ricattabile da nessuno, non mi sento ricattato. Questo credo sia una risposta sul tema delle intercettazioni per le quali c'è bisogno di mettere mano all'aspetto legislativo. Dobbiamo stabilire cosa sono e come si possono usare. Ecco, il Presidente si è soffermato sulla magistratura, quindi questo potere che viene esercitato dai magistrati, che chiaramente rimanda avanti e indietro alle leggi, le rimette sempre in discussione. Tu cosa ne pensi? Il tuo giornale cosa ne pensa? Beh, noi su questo siamo un pochino più scettici, dobbiamo dire che in questo periodo siamo stati un pochino, come direi, i pierini della situazione, ma non per cattiveria, perché siamo convinti che anche il ruolo dei giornali, della carta stampata e il ruolo del canale della guardia del potere. Sulla magistratura dobbiamo fare una riflessione. È un potere che ha preso forza nel momento in cui c'è stata la debolezza della politica. Allora, se la politica, quella vera, quella con la più maiuscola, torna ad essere un soggetto forte, un soggetto con un nome e un cognome, la magistratura deve tornare a fare il suo ruolo. Si è tentato e si tenta un ruolo sostitutivo da parte della magistratura che non può essere quello attuale, cioè di sostituirsi al governo nel legiferare e nel decidere ciò che è buono e ciò che è cattivo. Questo non può esistere. Bene, però c'è da dire che questa navetta che le leggi subiscono, devo dire che è abbastanza, è una sofferenza per un Presidente del Consiglio, per un governo. No, diciamo semplicemente che c'è una struttura costituzionale che va rivista. C'è bisogno di un buon ingegnere, di buoni muratori, tradotto fuori dalla metafora, dobbiamo rimettere mano al dettato costituzionale che non è più un tabù, non deve essere un tabù e non lo può essere nel 2011. Dobbiamo, come dire, abbassare l'asticella per quanto riguarda la legiferazione e i passaggi non possono essere più quelli di Camera e Senato, bisogna arrivare ad una Camera unica, a minor numero di parlamentari, altrimenti avremo sempre questa ingessatura, questa navetta tra Camera e Senato e leggi che entrano in un modo e che escono in un altro. Ecco, tra l'altro c'è da dire che è prevista una diminuzione dei parlamentari, anche questo è una manovra che favorisce l'economia dello Stato. No, ma è lì il problema, è prevista, va fatta, il problema è questo, cioè il prevederlo, si può prevedere tutto, chiamiamo un cartomante e prevediamo il futuro. No, quello che aspica libero, io poi in modo particolare dal mio punto di vista, è che questa riduzione debba avvenire domani, a mio potesto parere deve avvenire ieri, perché se chiedi, come dire, se chiedi sacrifici agli italiani non può non fargli la casta, passatevi il termine, ma secondo me la riforma, cioè la riscrittura della Carta Costituzionale deve partire proprio da quell'aspetto lì, ridurre il numero dei parlamentari, non è possibile avere mille parlamentari, avere due Camere, non è più un sistema sostenibile. A qualcuno dei relatori nei giorni scorsi vi ho fatto questa domanda, se tu fossi il governo cosa faresti? La rivolgo anche a te. Non lo so, non lo so, non ho queste capacità, certamente mi troverai in difficoltà, ecco mettiamola così. Quindi non è facile fare il Presidente del Consiglio? Assolutamente, è molto facile stare dalla mia parte in questo momento.